Un traguardo dopo l'altro, il GS Solbiatese raggiunge quota 70. Un tatami dopo l'altro, Andrea Pezzorante raggiunge la Nazionale. Luce e strisce pedonali per un paese più sicuro. Lavori in corso, meno chiari, anche in giunta. Per un lavoro pulito che non fa una piega, con la lavanderia Marisa si va sul sicuro. Dietro risultati straordinari, per lo sport ancora successi ordinari. Ben ritrovati a una spumeggiante edizione primaverile del TG Solbiate. È una puntata dove lo sport fa da padrone, da un passato glorioso a un futuro promettente, merito di società e atleti del paese. Iniziamo da un traguardo importante raggiunto dal GS Solbiatese. Il programma per celebrare degnamente il settantesimo anniversario della fondazione è infatti particolarmente ricco e variegato. Ci racconta tutto il presidente Andrea Rigolin. Con l'Assemblea societaria inizia ufficialmente l'anno del settantesimo anniversario per il GS Solbiatese. Andrea Rigolin, il presidente, un programma molto ricco. Quali sono gli appuntamenti principali? Gli appuntamenti principali sono... iniziamo praticamente con luglio, con una randonnée di 133 chilometri e una corta di 43 chilometri aperta alle disabilità. Poi faremo la solita gara per gli esordienti al 14 di agosto. Ci sarà poi un appuntamento autunnale con i ciclocross per i giovanissimi. Quest'anno aperta anche al ciclocross esordienti, ciclocross amatoriale e mi dimenticavo con luglio, perché non la faremo più a ottobre, ma a luglio in una notturna faremo la numero uno di mountain bike. Torneremo a parlare di tutti questi appuntamenti in prossimità di ciascuno di loro. Ma questa novità della randonnée, due parole velocissime per chi vuole cominciare a prepararsi. Per chi vuole cominciare a prepararsi, bene, per la randonnée dura. 133 chilometri che girano per molte strade dalla provincia, passando per Porto Ceresio, salendo all'Alpe Tedesco e poi giù in picchiata fino alla Valcuvia per risalire da Brinzio. Ci sarà la possibilità di vedere posti incredibili, il lago di Varese, parte della Valganna, chi vuole prepararsi a modo di farlo, perché fino a luglio ci sono ancora tanti giorni davanti. L'ultima cosa, quest'anno abbiamo dovuto rinunciare ancora una volta alla squadra giovanissimi, ma non ci rassegniamo. Vogliamo lanciare un appello ai genitori, soprattutto prima che ai ragazzi? Sì, squadra giovanissimi non ancora pronta, abbiamo pronto tutto il resto, percorsi, direttori sportivi, eccetera. Sicuramente arriveremo col 2017 a formare questa squadra di giovanissimi, abbiamo una location in valle per poter far girare, siamo fiduciosi. Per un traguardo raggiunto, un altro si prospetta nelle prossime settimane. Andrea Pizzolante, atleta dello Scorpion Karate, è infatti stato convocato a vestire la maglia azzurra per un incontro di livello internazionale. Oggi ci siamo spostati per una breve trasferta a Castellanza, presso lo Scorpion Karate ASD, dove Elena Mendicino, il presidente della società, ha una bella notizia da raccontarci per quanto riguarda un atleta di Solbiate. Siamo felici di comunicare che Andrea Pizzolante, che è un nostro atleta, è stato convocato dalla nazionale italiana per rappresentarci all'estero a Dubai. Quanto è importante per voi questo rispetto, quanto è importante per lui e soprattutto è una domanda che si chiedono tantissimi genitori. Come si concilia lo sport a questo livello con la scuola? Ma noi appunto siamo felici di comunicare che si può essere anche dei bravi atleti, quindi dedicarsi allo sport, senza comunque trascurare il livello scolastico che appunto Andrea Pizzolante ha tenuto sempre buono. Massimiliano Domenici è l'allenatore del nostro piccolo campione. Come ci stiamo preparando per questo evento? Bene, ci stiamo allenando praticamente un tour de force quasi tutti i giorni, con trasferte anche noi in altre palestre per diversificare gli avversari. Stiamo facendo varie gare a test in previsione di questa gara importantissima, una gara VKF, una gara della Federazione Mondiale del Karate, alla quale appunto Andrea parteciperà come rappresentativa nazionale Xen, dove lui ha vinto per due anni di fila sia la Coppa Italia che i campionati nazionali. Andrea è l'attuale vice campione italiano anche FIGICAM, che è l'unica federazione italiana riconosciuta dal CONI per rappresentare il karate in Italia e all'estero. Proprio grazie a tutti questi risultati è stato convocato già a dicembre con la nazionale italiana FIGICAM giù a Roma, agli allenamenti e adesso questa seconda convocazione a Dubai tramite l'OXEN a rappresentare la nazione appunto italiana in questa gara importantissima dove lo vedrà per la prima volta scendere sui tatami e confrontarsi con cittadini appunto provenienti da tutte le parti del mondo. Oltre naturalmente all'aspetto sportivo c'è da pensare anche per fare il ragazzo sotto l'aspetto psicologico. Come vi state organizzando e quali sono le aspettative oltre naturalmente a fare esperienza? Ma è una grande appunto esperienza, il risultato speriamo di ottenerli ma è la prima volta che Andrea va all'estero e si confronterà appunto in una realtà così importante e c'è da dire che da un punto di vista psicologico Andrea è sempre stato lucido quando scende sui tatami, non ha mai dato grossi problemi di ansia da prestazione. Però vedremo questo giro come si comporterà in questa nuova esperienza, in questa nuova avventura. E siamo finalmente con il protagonista Andrea Pizzolante. Come ti stai preparando a questo evento? Beh, con allenamenti duri tutto il giorno, tutte le sere mi vedo impegnato in vari allenamenti Sia qua allo Scorpio, a Castellanza, che a Solbiate, che in varie palestre a Milano o a Barlassina E comunque è un impegno veramente importante per me, grande emozione E uno ci mette anima e corpo per poterlo raggiungere Cosa ci aspetti? Agliela ovviamente di sognare la vittoria Beh, comunque di portare a casa l'esperienza, che è quella che di più conta in questi casi E di fare comunque una bella figura Per tutti gli altri che invece rimarranno in paese, non sarà difficile accorgersi di alcuni lavori pubblici Prima di tutto, un problema da noi segnalato circa un anno e mezzo fa Sono stati infatti finalmente posati i lampioni lungo via Mazzini, nel tratto dell'area Ex-Rovelli Rimosso in fase di delimitazione del cantiere, la zona residenziale era rimasta per lungo tempo al buio Fino a pochi giorni fa, quando sono stati installati dei nuovi sistemi a LED Buone notizie anche per chi si muove a piedi nella via Vittorio Veneto In occasione del rifacimento della segnaletica orizzontale lungo la vicina via Patrioti Sono stati delimitate gli spazi di posteggio Soprattutto sono state tracciate anche tre strisce pedonali L'attraversamento di una via altamente frequentata Reso pericoloso dalla presenza della chiesa, della scuola materna e dei diversi esercizi commerciali È ora meno a rischio Lavori in corso di tipo completamente diverso anche all'interno della giunta Andrea Spesani, uno degli assessori sin dall'inizio del primo mandato del sindaco Melis Rappresentato come figura di spicco, è stato rimosso L'unica motivazione fornita nel corso del Consiglio Comunale di fine febbraio Quando la notizia è stata ufficializzata, parla di normale avvicendamento Al posto dell'assessore sollevato, il sindaco ha chiamato Pierpaolo Ponzone Preveniente dall'azienda speciale per il Mediolona Al nuovo incaricato, non residente a Solbiatolona Passano quindi le deleghe per servizi sociali e istruzione Quando lo sporco si rivela più forte anche dei più moderni detersivi e lavatrici L'unica via di uscita restano la tradizione e la competenza garantite dal classico negozio di paese Servizio ancora oggi indispensabile, con lavanderia Marisa a Solbiatolona si va sul sicuro Il profumo inconfondibile che si sente generalmente entrando in una lavanderia Lo troviamo anche dalla signora Marisa Un'attività oma storica di Solbiatolona Quanta gente l'ha incontrata scendendo dal paese o venendo su dalla valle in questi anni? Tantissima, pur essendo io abitante qui a Solbiatolona di Cassano, qui lavoro solo Però incontro tantissima gente con la quale ho del rapporto di lavoro Ci conosciamo, ci salutiamo e abbiamo anche comunque creato delle amicizie Belle insomma con i miei clienti Tanti anni fa una lavanderia era probabilmente un punto di riferimento fisso per il paese Oggi un po' meno, ma qual è il ruolo di un esercizio di questo genere? Ma diciamo sì che è un pochino stata dimenticata Anche se comunque alle volte c'è un ritorno Perché la gente vuol provare altro Che il commercio offre Però poi ritorna perché evidentemente si trova un pochino Però comunque rimane anche un punto di riferimento Quando la cliente si trova in difficoltà Oppure anche ha bisogno di un contatto con le persone Con la persona che trovano nel negozio Rimane anche un rapporto di amicizia Oltre che di lavoro Al di là del servizio classico che una lavanderia tradizionale può dare Noi offriamo alle nostre clienti anche questo servizio Di inamidatura, diciamo di centri Come potete vedere Oppure addirittura tendaggi Questi sono dei tendaggi fatti su misura Che la cliente ci porta appunto da mettere in pose Inamidare E che comunque non è un lavoro da sottovalutare Perché è molto impegnativo E ci crea e ci impegna molto tempo Ecco questo è un servizio in più Che ci tengo a dire Che noi diamo, offriamo alle nostre clienti Che non è da tutti Capi delicati, macchie difficili A volte anche qualche piccolo guaio Cosa chiede il cliente che si rivolge alla lavanderia oggi? Allora, paradossalmente chiede il miracolo Cioè viene qua con l'intento Con la speranza che io riesca comunque a fargli il miracolo Di risolvere il problema Però ovviamente non tutto è possibile Per cui niente, si cerca di valutare Il danno o comunque il problema Che ce ne sono sempre tanti Perché tessuti nuovi, cose nuove che ci sono in commercio Danno comunque da pensare e da valutare Cerco nel possibile insomma di riuscire a risolvere il problema Però dicendo comunque Che non sempre si riesce ad ottenere la perfezione E si deve accontentare alle volte di quello che si può avere Perché i miracoli, ripeto, non li fa Alle volte dico sempre come battuta Mi sto attrezzando per una bacchetta magica Ma anche lì non l'ho ancora trovata Per cui insomma ci stiamo provando Io nella mia esperienza e mia buona volontà Ci metto tutto veramente Le mie conoscenze e l'amore per il lavoro Per riuscire, ripeto, a risolvere la cosa Però non sempre è possibile Diciamo che riesco abbastanza bene e soddisfacente I traguardi straordinari dello sport locale Non rallentano l'attività di tutti i giorni delle nostre società Come sempre ci tiene aggiornati Lucio Ghiolli A te la linea Grazie Sofia Per la pallavolo, la seconda divisione femminile Dopo aver sconfitto con il risultato di 3-1 il Castellanza Con l'ottima prestazione del libero Testoni Con il 72% di ricezioni positive Arriva anche la sedicesima vittoria consecutiva Nel recupero di campionato Contro la Bizzate per 3-0 Le ragazze solbiatesi Lisa e Damaglia Giudici Del Garden Horsers Hanno disputato con buoni risultati Il primo concorso nazionale tipo C Che si è svolto domenica 6 marzo A Bustarsizio Presso il Centro e Trea Sport Il sesto campionato italiano I cheerleading e cheer-dance Che si è disputato a Rimidi Ha visto in gara nelle varie discipline Di quello che ormai è in effetti un vero sport 1200 atleti provenienti da 10 regioni italiane La squadra solbiatese delle Reds Cheer Virtus Solbiate è arrivata a seconda Grande prova per i nostri ragazzi del Takendo Che il 27 e il 28 febbraio Hanno disputato la gara internazionale Città di Cervia Anche in questa occasione Non sono mancate le medaglie E la prova di carattere Che ormai li contraddistingo Le medaglie sono arrivate in tutto il settore Dove i nostri erano impegnati Ricordiamo la medaglia d'oro Di Crisafulli Riccardo L'argento per De Martino Chiara E Manarin Nicolas Inaspettato il bronzo Conquistato dalla coppia Crisafulli De Martino Che gareggiavano in una categoria superiore E strepitoso l'argento del diversamente giovane Grisafulli Antonio Dove in finale ha dovuto fronteggiare Una cintura nera secondo Dan Ricordiamo che la sua cintura è blu Che dire Ormai si sprecano gli aggettivi per questi ragazzi Bravi e bravissimi anche all'estero A Torgeren in Belgio lunedì 7 marzo I nostri ragazzi sono rientrati Con un bottino di tutto rispetto Pensando all'alto di livello Che vi era alla due giorni di gara Per il calcio segnaliamo Che non tutte le squadre Sono state eliminate nelle coppe Infatti la squadra degli Young Con molta grinta Hanno sconfitto l'atletico Carnago Per 2 a 1 Con il conseguente passaggio di turno Si va così ai quarti di finale Della coppa dei gironi CSI Dopo la sconfitta per 2 a 1 Contro la mozzatese I ragazzi dell'uciso albiatese Di mister Rimoldi Tornano alla vittoria per 4 a 3 Contro il Rasa Riconquistando il quarto posto in classifica Nella bellissima cornice della città di Sabioneta Si è conclusa la seconda tappa Del circuito Lombardo di Karate Firmato Cisen Lo Scorpion Karate Presente alla manifestazione Anche se in forze ridotte Per la concomitanza di più eventi Ha conseguito numerosi piazzamenti Fra i quali il secondo posto Con Andrea Pizzolante Nel cumite cadetti E la vittoria con Dominici Roberta Nel cata a categoria bambini Domenica 20 marzo Alla 45esima edizione della Stramilano Oltre ai già numerosi solbiatesi Hanno partecipato più di 500 rappresentanti Della caserma nato Ugo Mara Per lo sport è tutto Ridò la linea Sofia Grazie Lucio Prima di salutarvi Voglio invitarvi a visionare La nostra rubrica La macchina del tempo Questo mese troverete Un filmato storico unico e imperdibile Arrivederci e alla prossima edizione